ma diciamo è arrivata la sentenza risoluzione del contratto con la rock nation l'agenzia che ha provato in tutti i modi a riportare romero lucacco all'inter quindi l'agenzia rescinde il contratto perché lui e il suo legale stavano parlando con altre squadre quindi questa ragazzi è la sentenza per chi ancora avesse dei dubbi io sono il primo a riconoscere il cinese il male dell'inter ma in questo caso non è colpa del cinese cioè può essere colpa del cinese perché comunque l'inter ha 3g versato troppo 20 milioni 20 più un set di pentole 20 più una mountain bike 20 più un weekend in toscana 20 più tutto quello che ti pare ma l'inter è economicamente distrutta lo sappiamo tutti rispetto all'anno scorso parliamo seriamente ragazzi dove i due prestiti i due parametri zero ti hanno fatto mettere insieme una squadra quest'anno non ce la fai quest'anno devi mettere mano le stanze alla pinetina mezze sono vuote ragazzi facciamo i 5 contro 5 in allenamento ripeto questo allenatore come può preparare una stagione in queste condizioni mancano 6 7 giocatori non ci sono i portieri guarda che la situazione è grave ora prendiamola a ridere e cerchiamo il lato positivo della cosa come bisognerebbe fare sempre nella vita ma fallo andare alla juve io vedo gente disperata e si strappa i capelli ma io come voi ho visto vieri andare in milan ho visto ronaldo il fenomeno con la maglia del milan ma cosa me ne frega se questo qui va alla juve fallo andare che con gli allenamenti di yoga che fa allegri allegri fa yoga allenamenti di yoga non fa allenamenti di calcio questo dura tre settimane cammina dove vuoi vada diventa come miglio verde se va alla juve fallo andare alla juve ma cosa te ne frega lukaku era un investimento sbagliato lukaku era un investimento sbagliato e non tutti i mali vengano per nuocere quindi via oltre lukaku c'è vita questa frase ha fatto effetto mi hanno detto diversi gruppi instagram facebook oltre lukaku ragazzi c'è vita bisogna essere positivi date retta a me ci è andata bene voi guardate come l'abbiamo scampata da chi da chi ci siamo liberati di chi ci siamo liberati di uno piccolo così che se deve andare in bagno deve chiedere il permesso alla mamma ma di cosa vuoi ragionare quando ti dicevo non ha personalità non sposta in personalità è come aristoteles ti dicevo io prima che tornasse lascialo dov'è quest'anno ti ho detto c'è andata bene fidati di quello che ti dice giuse fallo andare alla juve con gli allenamenti di yoga e fallegri non ti preoccupare problema i cinesi ora qui non è colpa dei cinesi ma rimane sempre lui il problema perché mancano 6 7 giocatori il ritiro il ritiro si è messo le porticine da calcetto 5 contro 5 non sa arrivare nemmeno a 20 devi chiamare i ragazzini della primavera portieri di gennaio errato dove vuoi andare ora è questo il problema il sostituto chi è ora questo bisogna bisogna capire chi è il sostituto perché turam e lautaro martinez sono due grandissimi giocatori per me io turam lo sapete sono due anni e ne parlo sono felicissimo io del fatto che l'inter abbia preso turam lautaro ognuno fa quello che vuole ci mancherebbe ma critica io ho sentito criticare lautaro che stanno l'ho sempre difeso lacciatore fantastico manca un centro avanti manca un centro avanti che ti possa dare quella giusta profondità che ti serve che ti possa soprattutto far verticalizzare perché l'inter fraseggiando mondo a centrocampo abbiamo visto soprattutto negli ultimi periodi che l'inter giocando in verticale risultava molto più pericolosa soprattutto non avendo gente sulle fasce e saltano uomo perché gli esterni dell'inter tornano indietro oppure appoggiano si appoggiano al centrocampista per questo ti dico bisogna essere contenti che lukaku non è tornato ragazzi datemi detta l'abbiamo scampata bella oltre lukaku c'è vita vedo tanta depressione non bisogna essere depressi per lukaku il problema non è lukaku il problema è che qui siamo a metà luglio e manca mezza squadra è quello il problema l'allenatore deve preparare una stagione rischi di compromettere una stagione noi ci focalizziamo sulle cazzate vuole andare alla juve te lo ripeto ma fallo andare alla juve ma che te ne frega gente come noi che ha visto vieri ronaldo in milan cosa ce ne frega se miglio verde vai alla juve cosa ce ne frega fallo andare dove vuole pensiamo a noi bisogna assemblare una squadra ho sentito parlare di gravenberg in prestito dal bayern monaco ma volesse volesse il cielo quello è un grandissimo giocatore mi sembra strano che bayern l'ho letto ora dieci minuti fa te lo dai in prestito e cominciamo ad assimilare la squadra perché è tardi ragazzi è tardi bisogna muoversi io capisco non è facile senza soldi siamo sempre lì il pesce punza dalla testa tutto quello che ti pare ma è successa una cosa positiva nelle ultime ore che ci siamo tolti dai coglioni lukaku fintati di quello che ti dico io ora però mettiamoci lì sul pezzo perché qui bisogna assemblare una squadra ragazzi non possiamo agosto non scherziamo eh i tournei chi ci va devo venire io i tournei con l'inter a giocare chi ci va in tournei in giappone lì con quelle altre squadre con chi si va quei ragazzini della primavera non scherziamo cerchiamo di assemblare questa squadra ragazzi marotta ausilo datevi una mossa io capisco tutto quello che vi pare ma qui il tempo il tempo è denaro altro che il tempo e denaro il denaro non c'è c'è solo tempo anzi non c'è nemmeno il tempo c'è poco anche quello bisogna muoversi ad assemblare la squadra lukaku andasse dove cavolo vuole lui non ci sono problemi ciao in testi becchia al pittà Grazie a tutti.